salve a tutti e benvenuti sul canale la mia passione per l'uncinetto oggi come potete vedere andremo a realizzare questi graziosissimi sacchettini porta cioccolatini ovviamente io ho messo dei cioccolatini dentro voi potete mettere caramelle quello che vi piace insomma all'interno sono graziosi perché periodo inerente alla pasqua li ho fatti con delle orecchie quindi molto carini molto sfiziosi se uno li vuole regalare comunque a una persona cara molto carina anche per i bambini le ho decorati con del nastro di raso e con questi fiocchettini che già avete visto nel tutorial insomma sul canale nel caso vi lascio il link in descrizione per vedere come le ho realizzati sono semplicissimi e velocissimi da fare la stessa cosa vale anche per il sacchettino molto veloce da fare i punti si ripetono quindi niente di complicato io ho utilizzato del cotone numero 5 e sono venuti più o meno di questa dimensione quindi facciamo circa un 10 centimetri totali con tutte le orecchie molto carine quindi vi ripeto ho utilizzato del cotone numero 5 per questo tipo di filato ho utilizzato un uncinetto due e mezzo ovviamente se voi andate a cambiare il tipo di filato quindi più spesso più sottile andrete ad adeguare il vostro uncinetto ho utilizzato un ago da lana quindi per cucire i fili in eccesso e anche per inserire il nostro nastrino ci serviranno delle forbici e come ho detto del nastrino a vostro piacere a vostro gusto di colore la stessa cosa anche per i filati prima di lasciarvi al tutorial io vi invito a iscrivervi al canale e se il video vi piacerà a lasciare un bel like per qualsiasi informazione per qualche curiosità potete lasciare un messaggio io se potrò e vi risponderò e quindi cercherò di togliervi tutti i dubbi e quindi di rispondere alle vostre curiosità se volete vedere qualche tutorial in particolare potete lasciarli nei commenti e io vedrò di inserirli nei prossimi progetti io vi ringrazio e vi lascio al tutorial iniziamo quindi adesso la nostra lavorazione facendo un cerchio magico quindi attorcigliamo il filo attorno alle nostre dita prendiamo il nostro filo e facciamo una catenella di sicurezza per chiudere il nostro cerchio ora facciamo due catenelle che ci serviranno solo per alzarci ma che non andiamo a contare perché adesso in questa lavorazione vi farò vedere anche un metodo per per la cucitura invisibile perché noi dobbiamo andare ad aggiungere cerchio per cerchio e quindi vi farò vedere la cucitura invisibile quindi facciamo le nostre due catenelle che non contiamo perché di solito noi le catenelle le contiamo come prima maglia in questo caso e anche nei successivi perché mi è piaciuto molto usare questo metodo mi è piaciuto il risultato e quindi lo voglio condividere con voi quindi andiamo a lavorare la nostra prima maglia alta che sarà la nostra prima maglia alta ok le tre catenelle non le pensiamo continuiamo quindi carichiamo il nostro filo sull'uncinetto entriamo nel cerchio e a due a due chiudiamo la nostra maglia alta e queste la seconda poi andremo a fare la terza in totale nel nostro cerchio magico dobbiamo andare a lavorare 20 maglie alte tutte all'interno del nostro cerchio magico quindi carichiamo il nostro filo chiudiamo due e chiudiamo due fino ad ottenere 20 maglie alte una volta fatte le nostre 20 maglie alte tiriamo il nostro filo del cerchio magico più che possiamo poi ci andiamo a chiudere nella prima maglia alta quindi queste sono le tre catenelle vedete queste il primo e noi non le andremo a contare quindi non ci non ci interessano andiamo quindi sulla prima maglia alta e ci chiudiamo con una maglia bassissima ora continuiamo la nostra lavorazione facendo sempre le nostre due catenelle che ci servono soltanto per alzarci e andremo a fare un giro di aumenti su tutti questi 20 punti che abbiamo fatto nel nostro primo cerchio quindi siccome non contiamo adesso le catenelle nello stesso punto vado a fare due maglie alte quindi questa è la prima e questa è la seconda e così per ogni punto sottostante due maglie in ogni punto sottostante quindi aumento l'aumento è formato da due maglie una e due nello stesso punto e così per tutti e 20 i punti sottostanti fino a trovarci 40 maglie nel nostro secondo giro arrivati alla fine del giro e quindi alla nostra quarantesima maglia ci andiamo a chiudere sempre nella nostra prima maglia alta cioè questa qui le tre catenelle ci servivano soltanto per alzarci questa è la prima maglia alta e noi ci andiamo a chiudere sopra alla prima maglia alta con un punto bassissimo ora proseguiamo la nostra lavorazione in questo modo quindi ci facciamo una catenella e ora dobbiamo andare a fare un giro per delineare il bordo della nostra base perché poi dopo dobbiamo iniziare a salire vedete come ho fatto anche qui abbiamo fatto i nostri primi due giri adesso dobbiamo andare a fare questo bordo vedete questo rilievo e poi dopo iniziamo a salire quindi abbiamo fatto la nostra catenella e in ogni punto entrando soltanto nella costina dietro quindi non prendendo tutto il punto in questo modo ma soltanto la costina dietro carichiamo il nostro filo e ci facciamo il nostro punto basso e così per ogni punto di base quindi entriamo non tutto il punto entriamo solo nella costina dietro e lavoriamo un punto basso basta mettere l'uncinetto al centro nella nostra catenella vedete quella si forma questa v noi dobbiamo andare al centro di questa nostra catenella e tirare il nostro filo e formare la nostra maglia bassa in questo modo e così dobbiamo fare per tutto il giro quindi 40 punti sottostanti ci troviamo 40 punti bassi dobbiamo andare a lavorare in costa dietro perché prendere la catenella dietro quindi la costina dietro scusate si dice quindi lavorare in costa dietro in modo da ottenere poi questo bordo quindi questo delineamento che poi ci permetterà di alzarci ok quindi continuiamo a fare la nostra lavorazione quindi punto su punto andiamo a lavorare nella nostra costina posteriore mi raccomando quella dietro e così per tutto il giro facciamo gli ultimi punti insieme quindi la quarantesima e adesso ci andiamo a chiudere sempre con una maglia bassissima nel nostro primo punto lavorato in costa dietro però in questo caso per chiudere con una maglia ballistissima dobbiamo prendere entrambe le costine quindi entriamo tirano il filo e ci chiediamo con una maglia bassissima abbiamo lavorato il nostro bordo quindi adesso continuiamo la lavorazione iniziamo a salire quindi cosa facciamo due catenelle che ci permettono di alzarci e nello stesso punto andiamo a lavorare una maglia alta perché abbiamo detto quindi che questo tipo di lavorazione che stiamo facendo adesso quindi questo metodo che vi voglio far vedere ci permette di avere una così una cucitura quasi invisibile quindi un unione perché in realtà non è una cucitura ma è un unione di punti quasi invisibile e quindi queste tre catenelle che siamo a queste due catenelle che siamo andate a fare scusate non le contiamo come abbiamo fatto fino adesso e iniziamo a contare dalla nostra prima maglia alta che abbiamo lavorato e così punto su punto andiamo a fare le nostre maglie alte quindi 40 punti abbiamo sulla nostra base 40 punti alti andremo a lavorare queste due catenelle non andranno contate quindi io inizio a contare da questa 1 carichiamo il nostro filo entriamo di nuovo nel secondo punto quindi nel punto successivo e facciamo la nostra seconda maglia alta di nuovo carichiamo il nostro filo punto successivo maglia alta ancora punto successivo maglia alta e così per tutto il giro punto su punto poi vi farò vedere alla fine come andrò a chiudere di nuovo e così lo dovremmo fare per tutti i giri seguenti quindi carichiamo il nostro filo punto su punto per ogni punto che si presenta davanti a noi andiamo a lavorare una maglia alta arrivati alla fine del nostro giro quindi ci ritroviamo le nostre 40 maglia alte ci andiamo a chiudere nella nostra prima maglia alta quindi entriamo con l'uncinetto e ci chiudiamo con una maglia bassissima vedete l'unione è molto pulita a me piace questo metodo ecco perché lo sto facendo vedere anche a voi allora continuiamo la nostra lavorazione adesso siamo andati a fare il nostro primo giro per alzarci perché in realtà questo è il quarto giro quindi dal quarto giro quindi dal primo giro che abbiamo fatto dobbiamo arrivare dal quarto fino al decimo sempre a fare la stessa lavorazione quindi facciamo le nostre due catenelle nello stesso punto io vado a fare la prima maglia alta ok come abbiamo fatto anche prima di nuovo punto su punto andiamo a lavorare la nostre le nostre maglie alte quindi 40 sono le maglie alte del giro precedente 40 maglie alte quindi senza aumenti saranno di questo giro e dei successivi fino ad arrivare al decimo giro io a questo giro mi fermerò nuovamente e vi farò vedere di nuovo la chiusura che andrà ripetuta identica per tutti gli altri giri fino ad arrivare al decimo giro quindi iniziamo a fare punto su punto e vi farò vedere di nuovo poi la chiusura e l'inizio quindi come partire quindi come chiudere il giro e come ripartire e sarà sempre uguale per i prossimi sei giri quindi qua già lo stiamo facendo quindi per i prossimi cinque giri ok arrivati alla fine del giro di nuovo ci andiamo a chiudere di nuovo nella nostra prima maglia alta quindi non le catenelle che facciamo per alzarci ma la nostra prima vedete se con l'uncinetto seguite la maglia vi porterà direttamente nella chiusura quindi nella maglia di chiusura vedete partendo dal basso con l'uncinetto della maglia alta vi porterà direttamente a chiudervi sempre con una maglia bassissima vedete e così sarà per tutti gli altri cinque giri quindi vi faccio vedere di nuovo l'inizio facciamo le nostre due catenelle che ci permettono di alzarci nello stesso punto vedete questo buchetto qui nello stesso punto andiamo a lavorare la nostra prima maglia alta e nei punti successivi punto su punto andiamo a lavorare le nostre 40 maglia maglie alte sempre così per tutto il giro questo e anche nei successivi vedete quindi noi abbiamo fatto 12 il giro di bordo 3 il primo giro di alzata 4 il secondo giro di alzata 5 stiamo lavorando il sesto giro dobbiamo continuare così fino a completare il decimo giro sempre uguale con l'inizio come vi ho fatto vedere e la chiusura come vi ho detto e vedrete che il lavoro risulterà molto pulito vedete se voi notate questo qua che già ho completato la chiusura è qui in questo spazio qua quindi è quasi invisibile come vi posso dire che perché mi piace questo mezzo e lo sto facendo vedere anche a voi vedete quindi continuiamo così e ci rivediamo alla fine del decimo giro facciamo l'ultima chiusura del decimo giro quindi insieme sempre la nostra prima maglia alta entriamo all'interno delle nostre lasoline e facciamo una maglia bassa come vedete abbiamo raggiunto l'altezza del nostro sacchettino ovviamente poi se lo volete fare più alto basta continuare lo stesso giro io più o meno a questa altezza qua saranno 7 8 centimetri per me va bene ora dobbiamo andare a fare un ulteriore giro però cambieremo un po con la lavorazione non sarà una maglia alta quindi il giro che andremo a fare ma sarà una maglia altissima perché ci servirà un po di altezza in più per inserire il nostro fiocchettino quindi come andremo a procedere invece di due catenelle questa volta ne faremo 3 quindi 1 2 e 3 che ci servirà per alzarci carichiamo due volte il filo sul nostro uncinetto entriamo nello stesso punto delle catenelle ci andiamo a chiudere a 2 a 2 le nostre asoline così che da formare la nostra prima maglia altissima carichiamo nuovamente punto successivo di nuovo chiudiamo 2 chiudiamo 2 chiudiamo 2 abbiamo lavorato le nostre prime due maglie altissime perché vi ripeto le catenelle ci servono solo per alzarci continuiamo quindi carichiamo due volte il filo entriamo chiudiamo le prime due chiudiamo le altre due e le altre due e così per tutto il giro quindi faremo 40 maglie altissime quindi punto su punto andremo a realizzare le nostre maglie altissime perché come vedete tra la maglia altissima e la maglia alta c'è una differenza abbastanza evidente e ci servirà questo spessore quindi questa larghezza per inserire poi il nostro fiocchetto ok poi lo vedremo man mano nella lavorazione quindi andiamo a completare questo giro di maglie altissime e poi vedremo come procedere arrivati alla fine del nostro giro di maglia altissima ci andiamo a chiudere come sempre nella nostra prima maglia lavorata con un punto bassissimo quindi questa è la nostra prima maglia altissima lavorata entriamo e ci chiudiamo con un punto bassissimo abbiamo terminato anche il nostro giro di maglie altissime adesso dobbiamo andare a lavorare le nostre orecchie quindi continuiamo facciamo una catenella e nello stesso punto entriamo e lavoriamo già la prima maglia bassa perché adesso dobbiamo fare delle maglie basse quindi questa è la nostra prima maglia bassa punto successivo facciamo la seconda perché ne dobbiamo fare in totale 9 quindi questa è la seconda la terza la quarta la quinta la sesta settima ottava e nona maglia bassa ora una catenella giriamo il lavoro e entriamo nel punto subito che si presenta davanti a noi quindi entriamo all'interno e lavoriamo la nostra prima maglia bassa entriamo nel punto successivo ancora nel punto successivo ancora quindi 9 maglie basse abbiamo sulla nostra base altrettante le dobbiamo ripetere per il nostro secondo giro quindi completiamo le nostre 9 maglie basse allora io vi farò vedere la prima ovviamente di orecchia ecco così completato il nostro secondo giro di maglie basse quindi catenella giriamo ancora una volta entriamo direttamente nel punto che si presenta davanti a noi qui e di nuovo facciamo un giro di maglie basse sempre 9 ve ne dovete trovare voi contate quindi abbiamo fatto la prima la seconda la terza 4 5 6 7 8 e la nonna mi quando entriate sempre nel punto dovete prendere entrambe le costine catenella giriamo di nuovo il nostro lavoro e sarà l'ultima volta che ne faremo 9 maglie basse quindi entriamo nel punto subito che si presenta davanti a noi e facciamo tutto il nostro ritorno di maglie basse abbiamo fatto la parte bassa del nostro orecchio e come stiamo facendo questa parte dopo lo dobbiamo ripetere per il nostro secondo orecchio ovviamente quindi abbiamo finito i nostri giri di maglia bassa abbiamo fatto in totale 4 4 giri di andate e ritorno di 9 maglie basse catenella torniamo indietro e adesso iniziamo a fare le nostre diminuzioni perché dobbiamo andare a creare la nostra punta quindi non entriamo quindi nel punto subito che si presenta davanti a noi ma in quello successivo e lavoriamo la la nostra maglia bassa una due tre quattro cinque sei sette e otto e come vedete abbiamo già diminuito diminuito di una maglia mi raccomando contate sempre così non vi confondete catenella voltiamo il nostro lavoro e di nuovo una diminuzione quindi non entriamo nel punto subito che si presenta davanti a noi ma in quello successivo 1 2 3 4 5 6 e 7 vedete ad ogni giro eliminiamo un punto quindi catenella ritorniamo indietro voltiamo il nostro lavoro non il nostro lavoro non il nostro lavoro non il nostro lavoro non il punto che subito si presenta davanti a noi ma in quello successivo e andiamo a lavorare 1 2 3 4 5 e 6 catenella voltiamo il lavoro non qui qui 1 2 3 4 e 5 catenella voltiamo il lavoro ancora una volta non qui ma in quello successivo 1 2 3 e 4 catenella voltiamo il lavoro non qui successivo 1 2 e 3 catenella voltiamo il lavoro non qui successiva 1 e 2 ancora una volta catenella voltiamo il lavoro non qui al centro faremo la nostra maglia bassa catenella perché una maglia bassa la dobbiamo ripetere per due volte entriamo e ci facciamo di nuovo la nostra maglia bassa una catenella di sicurezza una catenella di sicurezza e tagliamo il nostro filo il nostro primo orecchio il nostro primo orecchio è terminato vedete abbiamo fatto il nostro primo orecchio ora dobbiamo ripetere per fare il secondo però il secondo orecchio come andrà fatto ci dobbiamo distanziare per fare il secondo orecchio quindi riprendiamo il nostro filo e contiamo quindi questa è la maglia lavorata vedete siamo entrati a maglia bassa maglia lavorata contiamo da qui 1 2 3 4 e 5 e nella sesta maglia entriamo con l'uncinetto e agganciamo il nostro filo punto di sicurezza e iniziamo di nuovo la nostra lavorazione quindi nello stesso punto dove ci siamo agganciati andiamo a fare la nostra maglia bassa e questa è la prima punto successivo facciamo la seconda e nello stesso momento fermiamo anche il nostro filo vedete appoggiamo dietro e si ferma in automatico quindi punto successivo facciamo il terzo punto successivo quarto punto successivo quinta maglia bassa punto successivo sesta maglia bassa settima settima ancora ottava e l'ultima maglia bassa dobbiamo ripetere adesso la lavorazione che abbiamo fatto nel nostro primo orecchio quindi abbiamo fatto quattro giri di nove maglie basse andata e ritorno questa è l'andata quindi poi facciamo una catenella e ci facciamo il giro di ritorno e mi raccomando nei nuovi punti bassi dovete prendere subito il primo punto che si presenta altrimenti andate a fare poi la diminuzione che faremo poi in seguito quindi ripetiamo i nostri nove punti bassi entriamo qui ancora una volta una volta fino ad arrivare ai nove punti bassi e così per quattro volte ripetere ripetiamo scusate lo stesso procedimento che abbiamo fatto per il primo orecchio quindi catenella voltiamo il lavoro un'altra volta una volta terminato il nostro secondo orecchio non ci resta che fermare quindi i nostri fini quindi prendiamo il nostro lago e ci andiamo a fermare all'interno di qualche maglia senza tirare troppo mi raccomando altrimenti la punta dell'orecchio poi si toglie quindi proprio leggero leggero se vedete che si tira il filo fatelo scorrere leggermente vedete poi lo aggiustate voi entriamo in qualche altra maglia e così facciamo anche dall'altro lato una volta che abbiamo fermato un po di maglia più giù facciamo un punto di sicurezza per fermare il nostro lavoro e quindi per renderlo bloccato come abbiamo fatto da questo lato ovviamente andiamo adesso a fermare dall'altro lato ecco qui una volta fermati i nostri fili il nostro lavoro si presenterà in questo modo ora dobbiamo andare ad impreziosirlo quindi a decorarlo e quindi spazio alla fantasia io per esempio l'ho decorato con un nastrino di raso del colore che richiama questi fiorellini che ho applicato sempre sul nostro sacchettino vi faccio vedere ne ho alcuni vedete poi vi lascio il link del tutorial in descrizione comunque trovate il tutorial sul canale ho scelto quindi da abbinare siccome qui abbiamo messo un lila e un giallo io qua vorrei abbinare con un rosa e un bianco sì e quindi faremo in questo modo andremo a fermare i nostri fiorellini ovviamente libera scelta lo potete fare al centro lo potete mettere laterale a me piacciono un po' laterali quindi cercherò di mettere al centro il mio primo fiore quindi lo faremo insieme prendo il mio filo vedete ho pure qua li ho fatti e quindi cerchiamo di metterli un po' più al centro perché sono qui in questo per non metterli un po' troppo laterali quindi ci facciamo il centro più o meno del nostro cerchio andiamo nella nostra terza riga vedete abbiamo fatto uno due io vado nella terza riga qui quindi uno quindi se questo è il centro uno due terza riga quindi mi aggancio e blocco il mio primo filo ok ora carico il secondo filo e quindi vado a posizionare questi fiorellini quindi ovviamente come più ci piace e quindi vado ad inserire nella maglia a fianco quindi mi vado a inserire con il mio secondo filo capovolgo un po' il lavoro e li blocco molto semplicemente facendo un odino quindi uno ne faccio qualcuno in più giusto per essere certi che non si sfili e taglio il mio filato in eccesso abbiamo bloccato il nostro primo fiorellino vedete? adesso andiamo a bloccare il nostro secondo e poi vedremo come continuare la nostra lavorazione una volta bloccati i nostri fiocchiettini più o meno dove ci piace adesso andiamo ad inserire il nostro nastrino allora in questo caso io qui lo voglio mettere bianco quindi mi ritaglio un po' di nastrino quindi circa un 25 cm più o meno a occhio poi se è troppo lungo lo possiamo ritagliare successivamente infiliamo con il nostro ago da lama in questo modo e quindi cosa facciamo? sempre seguendo il nostro centro più o meno eh ci andiamo ad infilare nella nostra riga di maglie altissime qui più o meno e facciamo due maglie altissime le prendiamo da sotto e ci infiliamo ovviamente poi dobbiamo andare a sistemare il nostro fiocchetto ok? man mano che lo infiliamo e facciamo due maglie le infiliamo due maglie non le infiliamo e passiamo a quelle successive vedete? facciamo due sì due no in questo modo e poi man mano ce lo sistemiamo in questo modo vedete? molto semplice come lavorazione quindi due maglie le prendiamo e prendiamo le altre e man mano ci sistemiamo una volta infilato il nostro nastrino che cosa facciamo? io sono andata ad imbottirlo un poco quindi giusto per dargli un poco di morbidezza vedete? a sacchettino quindi ho infilato un po' lavata sintetica e poi ci possiamo inserire alcuni dei nostri dolcini in questo modo ovviamente voi potete mettere quelle che volete caramelle insomma quello che volete tirate il nostro filo vedete? e poi dopo non ci resta che sistemare le nostre orecchie quindi andiamo ad annodare facciamo il nostro filo e poi ce lo sistemiamo per bene in questo modo ecco qui vedete? molto carino molto sfizioso insomma come idea regalo e poi sistemiamo ovviamente le nostre orecchie vedete? io spero che questo tutorial vi sia piaciuto come potete vedere è terminato lo abbiamo decorato in questo modo però ovviamente spazia la fantasia potete decorarlo come più vi piace i nastrini vi consiglio se quindi usate il nastrino di usare un po' l'accendino e quindi bruciarli un po' sotto in modo che non si sfili il nastrino io personalmente li amo un po' più corti e quindi me li accorcio già di un altro po' ed ecco qui il nostro sacchettino porta cioccolatini porta caramelle porta confetti quello che più vi può piacere insomma è terminato io vi invito a iscrivervi al canale per vedere altri tutorial del genere se volete potete commentare e quindi chiedermi qualsiasi informazione che voi vogliate qualsiasi curiosità io sono a vostra disposizione lasciate un commento e io cercherò poi di rispondere alle vostre curiosità io vi ringrazio e alla prossima